La regola generale è con acento grave che per limitare al massimo e rischi in caso di incidente, sia il cani sia il loro umani di buono sempre essere assicurati, vediamo insieme tutto quello che deve sapere per viaggiare con il che in in auto senza pensieri Viaggiare con il che in in auto, cosa dice la legge italiana, nel nostro paese, secondo l'arte 169 del Códice della Strada, si può viaggiare in auto insieme a tu no o picani o gatti pur che che stisiano coi o gatti in un apposito Tras portino barra box da viaggio o gabbia oppure vengano post in el vano posteriore dei auto, separato dai abitacolo tramite apposita grata o rete In caso di violazione della norma, sono previste sancioni, e pi precisamente, una multa di importo compreso tra 68,50 e 275,10 Il decurtamento di un punto da la patente di guida, per dir la tuta, non dovrebbe essere la paura di sancione e farci decidere di investire qualche euro in un transportino o in una gabbia per auto In caso di incidente, infatti, le conseguenze per i pelosetti che viaggiano con noi non assicurati sono spesso fatali Cuesta consapevolezza do breve rappresentare una ragione sufficiente per assicurare adeguatamente il tuo amico di zampa ogni volta Che vi spostate in auto come faccio ad assicurare corretamente il mio che in quando viagiamo in auto Viaggiare con il che in in auto e con acento grave qualcosa di assolutamente normale e che pure, hallo esteso tempo, ogni volta mete a rischio la sicurezza dei animali e dei passeggeri Persino un cagnolino molto piccolo, se non protetto, può rischiare la vita in un incidente anche banale Per evitarlo, fortunatamente, ci sono molti validi di sistemi di protezione tra cui stegliere Si tratta solo di trovare quello pia dato a te e al tuo pelosetto, e questo vale per tutti i proprietari di animali domestici E trasportini e le gabbie per auto In commercio esistono trasportini e gabbie auto in dan dimensioni e modelli diversi, non che c'è l'imbarazzo della scelta Quando parliamo di trasportino non devi per forza pensare ad una borsa o ad un accessorio di dimensioni ridote Obviamente puoi assicurare anche un cagnolino di grossa taglia, quello che è con acento grave fondamentale e con acento grave che il tuo amico di zampa abbia abbastanza spazio per dryarsi e per accionbellarsi all'interno del box che stegli Un altro aspetto fondamentale è con acento grave che c'è sia un ricambio daria sufficiente Per il resto, le gabbie auto e i trasportini si differenciano fondamentalmente al livello di materiale Quindi puoi segliere tra quelli in metallo o quelli in plastica A seconda delle dimensioni, la gabbie può essere riposta in sicurezza nel bagagliaio o nel vano piedi del sedile Se la metti nel bagagliaio, devi inserirla il pivicino possibile al sedile posteriore La cosa migliore è con acento grave metterla in posizione trasversale, per evitare il rischio che scivolia all'interno del bagagliaio che uso Con i modelli di grandi dimensioni, è con acento grave anche importante tenere fissa la gabbia con un divisorio auto o una cintura E con acento grave fondamentale che, in caso di collisione o tamponamento, il trasportino non possa finire esbalzato in avanti a grande velocità In caso di incidente, soprattutto le auto meno recenti, non garantiscono la necessaria sicurezza in termini di stabilità del sedile posteriore I segliolini auto per cani Un'altra opzione sono i segliolini auto per cani Si tratta di accessori e stabilità fisare al sedile del pasejero anteriore o posteriore dell'auto, a seconda del modello Con uno di questi segliolini per auto puoi transportare un cane di taglia media o piccola Per ancorare il segliolino all'auto, di solito si usa una cintura o un soporto specifico Il cane va poi assicurato, all'interno del segliolino, tramite una posita imbracatura e una sorta di cintura Obviamente con acento grave fondamentale regolare il guinzaglio in modo che il tuo pelosetto non possa saltare dal sedile In caso di incidente, il segliolino auto evita che il tuo amico di zampa vengas balzato in avanti All'interno dell'abitacolo A seconda del modello, questi segliolini possono essere utilizzati anche come cucceta o trasportino a mano Le cinture di sicurezza per viachiare con il cane in auto Con una cintura di sicurezza per cane, poi tranquillamente far accomodare il tuo fedele amico sul sedile posteriore Per questo, è con acento grave necessaria una speciale petorina imbotita e testata per la sicurezza del tuo pet Che va fatta indosare al cane in maniera correta Li elementi che la tengono ferma e fissa dobre vero essere in metalo Così come e con acento grave importante che l'imbracatura o petorina non risulti Troppo larga, ma nemmeno troppo estreta Obviamente non puoi usare una normale petorina da pasegio Di solito in caso di impatto che i standard si estrapano Anche i collari sono assolutamente da evitare perchepo sono provocare gravi lesioni al collo del tuo amico di zampa Di solito che queste cinture sono aganciabile e facilmente al normale sistema già existente nel auto Inoltre, la cintura di sicurezza presenta il vantaggio di offrire al cane una certa libertà di movimento Se usi raramente la parte posteriore del auto Puoi decidere di utilizzare uno speciale tel di protezione Che di solito va aganciato ai pochi a testa Scopo di questa coperta Oltre ad evitare che il sedile si sporchi E con acento grave impedire che In caso di incidente L'animale vengas balzato con violenza in avanti Reti i am, griglie Con un'astei sonu agono un furgone E con acento grave meglio tenere il cane el bagagliaio Obviamente usando le necessarie a cortezze E con acento grave possibile far accomodare un cane il vano di carico della propria auto Solo con adeguate misure di sicurezza Nello specifico Come abbiamo visto In Italia è con acento grave necessario dotare l'automobile di una rete o griglia di protezione Che separi il vano di carico della giabitacolo ed al cane Una rete o una griglia A punto Da ancorare al sedile posteriore Desvolge questa funzione protetiva Con questo tipo di solucione Il tuo cane alla massima libertà di movimento possibile E con acento grave protetto Quanto lo è con acento grave il resto dell'abitacolo Per protegere al meglio il cane Griglia e reti dobre vero essere in botite O an evitare che il cane subisca lesione in caso di incidente Come abri capito Existe un sistema di sicurezza però ogni exigenza La cosa importante è con acento grave protegere te esteso E tuoi passeggeri E, non ultimo Il tuo migliore amico da Daniche si possono evitare Si tratta A ben guardare Di un esforzo minimo in cambio della sicurezza e della tranquillità di tutti Habituare il cane a transportino e gabbia per auto per cheno Lasziche il tuo peloso si abituì al transportino o la gabbia Quando è con acento grave a casa Lasziche le usi per un po come una cuccia suplementare Diventerà un oggetto familiare per lui e sarà più facile che lo accetti Senza problemi quando dovrete viagiare All'inizio cerca di limitare i viaji in auto a brevi spostamenti Se il tuo cane non è con acento grave ancora abituato alla gabbia auto o al transportino Viagiare con il cane deve diventare un evento il più possibile normale e rilassante Tieni pronta qualche ricompensa o snack da dare al tuo pelosetto se Durante il viaggio diventase un po' insofferente o nervoso Unosnack per premiarlo a fine viaggio In ogni caso non va mai dimenticato Durante il trajito in auto Il gioco preferito o il peluche del cuore posono rappresentare un punto di riferimento importante Per il tuo amico di zampa, ricordati di portarli con te, le praim volte All'inizio, se decidiria sicurare il tuo cane con una cintura di sicurezza al sedile posteriore E con acento grave meglio che fei sia anche un'altra persona accanto a lui Serve per verificare che la cintura e l'imbracatura sia non regolate correttamente Oltre a tranquillizzare il tuo pelosetto se fosse nervoso Grazie